Ben ritrovati a tutti, amici. Questa è una puntata davvero d'eccezione perché, come vedete, insieme a me e a Clara abbiamo Pier Giorgio Di Freddi. Ciao Pier Giorgio, grazie mille di aver accettato il nostro invito e benvenuto a Sottolinea TV. Grazie a te. Non me la son cavata male, non me la son cavata male. Mi sono preparato a lungo. Allora, la prima domanda che volevo farti su questo parte proprio da questa riflessione che fai, diciamo, in fondo alla quarta di copertina, no? Anzi, sul reto della copertina. Perché scrivi, in questo libro riflette sull'arroganza dell'Occidente anche attraverso i grandi pensatori del passato e ci invita a non farci alleviare la coscienza dall'illusione che forse gli altri possono essere peggio di noi. Perché effettivamente, questo non so se sei d'accordo, ma è una delle critiche forse più banali ed infantili che si sente spesso fare a chi cerca in qualche modo di mettere in discussione le politiche delle attuali classi dirigenti occidentali. E cioè l'argomento per il quale, insomma, è inutile stare qui a lamentarsi troppo perché dall'altra parte va peggio. E quindi è inutile, appunto, evidenziare tutti i limiti strutturali che hanno oggi le nostre democrazie perché ci sono le autocrazie. E' inutile criticare il fatto che c'è sempre meno libertà di pensare perché altrove... Cioè, che è un argomento che, insomma, nemmeno nelle classi alimentari si insegna a un bambino a pensare così. Cioè, nel senso che se te fai male il tuo compito, ah vabbè, va bene perché tanto gli altri hanno fatto peggio. No, diciamo, ovviamente questo non si può ragionare così, però lo si sente spesso. E l'altra cosa, mi sembra altrettanto infantile che si... L'altra critica infantile che si fa ad impostazioni invece di analisi come le tue è quella di dire che, visto che si critica le politiche, anche politiche contingenti, delle attuali classi dirigenti dei paesi occidentali, allora si è anti-occidentali. Cioè, che è come una cosa di dire, visto che io critico il governo di Giorgia Meloni, allora sono un anti-italiano. No, anzi, al contrario, cioè, lo critico perché ci tengo a mio paese, vorrei che fosse governato in qualche modo, nel modo giusto. Ecco, sei d'accordo che spesso si trovano un po' questi due argomenti che sono appunto un pochino infantili e che però si sentono spesso? Cosa ne pensi? Sì, il primo è assolutamente senza senso, anche perché in realtà, per esempio, portato in tribunale, per esempio, se uno è accusato di omicidio, non è che può dire, ah ma ce ne sono tanti altri che hanno ammazzato qualcun altro. E lei risponda delle cose sue, no? E poi dopo degli altri ci pensiamo eventualmente, no? E in particolare, io credo che nel dibattito, ma credo che sia anche abbastanza naturale che facciamo tutti così, è una reazione istintiva quella che abbiamo di difenderci attaccando o contrattaccando, però il dibattito è spesso sia quello interno, diciamo così, tra partiti, sia quello estero, tra nazioni o blocchi di nazioni, è sempre fatto da gente che parla degli altri, cioè tutti sono bravi a criticare gli altri e non si trova quasi mai qualcuno che dica, ma ok, cominciamo a vedere, per esempio, come siamo noi, no? E se ci piacciamo come siamo e poi dopo andiamo magari a confrontarci e poi a gloriarci di dire siamo brutti, non magli altri, sono ancora peggio di noi. E quello che ho voluto fare è proprio quello, cioè fare praticamente un esame di coscienza, invece che sempre attaccare e andare a cercare, spesso come si dice evangelicamente, poi detto da me, citare la Bibbia forse, no? Il Vangeli è fin eccessivo, no? Ma cercare di vedere la pagliuzza negli occhi altrui e non accorgersi che magari dentro i nostri ci sono delle travi, no? E certamente questo non significa essere anti-occidentali in questo caso, oppure anti-italiani come dicevi tu nel caso della politica italiana, significa semplicemente cercare di fare meglio che si può da parte nostra e poi vedere che cosa fanno gli altri. Il problema è che quando uno critica gli altri è perché spesso cerca di nascondere anche quelle che... faccio un esempio fra tutti. Per esempio se uno guarda il processo di Norimberga si accorge che una delle difese che fu adottata dagli accusati è stata proprio quella di dire, ma voi sì, avete vinto la guerra, quindi avete il potere della forza, diciamo così. Però ci processate, ci condannate per crimini che avete commesso anche voi. A Norimberga questo non fu seguito, anche se in realtà poi molti criticarono il modo in cui fu tenuto quel processo. Addirittura il capo, diciamo così, della Corte Suprema americana la criticò, ci fu il famoso Taft che era un candidato alla presidenza, era figlio anche lui già di un presidente che addirittura perse la candidatura per aver osato criticare appunto il fatto che il processo di Norimberga era, lui diceva, una farsa giuridica. A Tokyo, dove invece si processarono i crimini dei giapponesi, lì ci furono un paio di giurati che decisero di portare avanti questo argomento e di dire che in fondo, per esempio, se si criticavano i giapponesi per quello che avevano fatto in Asia, bisognava ad esempio processare gli americani per le bombe atomiche oppure per il bombardamento di Tokyo, che fu uno di quelle famose tempeste di fuoco che si riuscirono a fare pochissime volte perché bisognava anche... le tempeste di fuoco furono dei crimini terribili perché per giornate intere si bombardavano le città nella speranza che si facesse quella che si potrebbe chiamare una reazione a catena nell'atmosfera e successe solo tre volte che io sappia a Dresda, a Hamburgo e a Tokyo e questi sono crimini di guerra, noi non ne parliamo quasi mai quando parliamo della seconda guerra mondiale è come se ci fosse il bene da una parte e il male dall'altra questo è un po' ingenuo perché le guerre le fanno due mali di tipo diverso poi uno può decidere qual è il peggiore e qual è il migliore ma pur sempre sono mali e quindi il problema è proprio questo cercare anche di vedere quello che facciamo noi per non crederci superiori e non cullarci nell'illusione di essere sempre dalla parte del giusto e che gli altri siano sempre dalla parte del torto Chiaro Chiara? Pier Giorgio, io ti faccio una domanda secca Cosa si intende oggi per Occidente? Perché si parla sempre di Occidente senza dare una definizione precisa ma a me pare che l'Occidente attuale come chiamiamolo con una parola postmoderno sia qualcosa di nettamente differente anzi forse l'esatto opposto dell'Occidente così come è nato 700 anni prima di Cristo quando la cultura greca si espanse anche grazie a Roma in tutta l'Europa e poi nel corso degli anni, dei secoli si diffuse in tutta Europa caratterizzato da un grande elemento che è quello dell'umanesimo che oggi si è completo non solo è perso e addirittura rinnegato dalla filosofia neoliberale dei mercati dalla superiorità dei mercati sull'elemento umano Sì, questa è una cosa importante perché poi uno le parole le usa ma poi spesso se non sa il significato diventa problematico capirsi anche in realtà Occidente credo sia nato addirittura in quello che oggi noi chiameremo il Medio Oriente e Occidente era quello che stava a sinistra e Oriente quello che stava a destra e quella era la linea di separazione cioè l'estremo orientale del Mediterraneo oggi Occidente è sostanzialmente se uno vuol dare una definizione che più o meno perlomeno è quella che ho usato io nel mio libro per cercare di capire visto che l'ho messo nel titolo almeno per cercare di dire che cosa intendevo si può definire l'Occidente come l'Europa e le sue colonie che sono rimaste bianche e che hanno praticamente fatto un genocidio diciamo così una soluzione finale dei nativi cioè in Nord America quello che oggi sono gli Stati Uniti e il Canada dove c'erano ovviamente gli cosiddetti indiani americani che oggi sopravvivono a gocce diciamo così nelle riserve che sono tra l'altro campi di concentramento proprio nel senso letterale della parola e poi per esempio l'Australia la Nuova Zelanda che anche esse sono colonie bianche rimaste bianche anche lì gli aborigeni e i maori sono stati sterminati e dentro l'Occidente ci sono anche cose che per esempio in teoria non stanno l'Occidente dal punto di vista geografico cioè ad esempio il Giappone il Giappone fino a metà dell'Ottocento quando c'era lo shogunato gli shogun era l'esatto contrario era chiuso a tutto compreso all'Occidente e soltanto verso il 1850 si aprì con la caduta dello shogunato e per motivi ovvi la vicinanza relativa con l'America soprattutto con gli Stati Uniti fece sì che lo sviluppo del Giappone moderno fu fatto diciamo così in sintonia con quello che noi chiamiamo Occidente dall'altra parte c'è anche Israele ovviamente che non sarebbe Occidente nemmeno dal punto di vista tra virgolette razziale cioè quello bianco che ho detto perché è semita così come i palestinesi ovviamente gli israeliani e i palestinesi fanno parte di un unico gruppo etnico diciamo così e questo tra l'altro se posso dirlo tra parentesi è anche interessante perché quando si parla di antisemitismo lo si considera sempre soltanto nei confronti degli israeliani o meglio degli ebrei più in generale e non si pensa che per esempio il fatto di essere contro gli arabi in particolare contro i palestinesi e antisemitismo esattamente nello stesso modo perché tutti e due sono parti diciamo così del semitismo e Israele c'è dentro per motivi storici sappiamo che quando fu fondata in realtà non era direttamente nell'alleanza diciamo degli stati occidentali ma c'entrò quando ci fu la crisi del canale di Suez quando si ricostituì diciamo così la politica del Medio Oriente l'Egitto praticamente finì nella zona di influenza della Russia dell'Unione Sovietica dell'epoca e Israele invece con l'Inghilterra dall'altra parte da quel momento è diventato un po' il gendarme diciamo così dell'Occidente nel Nord Africa più in generale nel Medio Oriente una volta nell'Occidente sicuramente ci stava dentro la Russia perché era una delle potenze coloniali poi tra l'altro anche da un punto di vista genetico addirittura perché la casa reale russa era imparentata con le case occidentali tedesca, inglese e così via la Russia si è staccata dall'Occidente come lo intendiamo noi proprio per i motivi che dicevi tu per motivi economici diciamo così nel momento in cui arrivò la rivoluzione del 17 e quello fu uno stacco secco perché l'Occidente si caratterizza anche per il fatto di essere appunto capitalista cioè avere un orientamento e un'ideologia economica che è appunto quella del capitalismo e l'Unione Sovietica e poi tutta la zona di influenza dell'Unione Sovietica dopo la seconda guerra mondiale finì dall'altra parte quindi la Russia era occidente non l'è più il Giappone non era però l'è diventato Israele è anche lì è un po' in bilico però è abbastanza chiaro quello che si chiama anzi se uno vuole definire l'Occidente da un punto di vista economico la cosa più semplice è pensare al 10% più ricco del mondo cioè i rapporti Oxfam ci dicono che la distribuzione delle ricchezze è completamente disuguale nel mondo se uno vuole cominciare dal piccolo 20 persone, 20 persone proprio letteralmente nemmeno due dozzine di persone al mondo posseggono la stessa ricchezza della seconda metà povera del mondo cioè di 4 miliardi di persone che è una cosa veramente inuguale poi c'è il 10% c'è l'1% del mondo che sono 80 milioni di persone che posseggono il 60% delle ricchezze questa è una cosa straordinaria e poi c'è il 10% che siamo appunto tutti coinvolti sono circa 800 milioni quindi ci sta dentro appunto l'Europa l'America, l'Australia e un po' di stati avanzati economicamente che hanno il 90% delle risorse questo è il grande problema del mondo poi alla fine il fatto che il 10% della popolazione mondiale abbia il 90% della ricchezza che significa che vale anche il contrario il 90% della popolazione ha solo il 10% della ricchezza quindi le guerre che ci sono in Ucraina che ci sono in Israele ci sono anche altre motivazioni ma Taiwan ad esempio la Cina oppure il Nord Africa di cui si parla sempre poco e sarebbe meglio si parlasse di più anche perché lì siamo coinvolti direttamente noi siamo noi che facevamo l'occupazione addirittura la Francia qualcuno avrà notato negli ultimi anni e mezzo diciamo 18 mesi, 24 mesi ha perso il controllo del Nord Africa del Sahel cosiddetto cioè il Senegal, il Burkina Faso il Mali il Niger il Sudan e che cosa succede quando si perde? c'erano le truppe tra l'altro francesi perché noi ovviamente ci lamentiamo del fatto che la Russia abbia invaso l'Ucraina però lì l'invasione risale a parecchio prima c'è addirittura ancora il franco coloniale si chiama così la moneta unica diciamo del Nord Africa e i francesi sono stati cacciati malamente proprio con la forza e naturalmente il vuoto non rimane quindi è stato colmato dai russi e quindi la guerra noi spesso non capiamo le uscite di Macron però Macron sta pensando ovviamente alla guerra con la Russia in un modo molto più generale che non soltanto il fronte Ucraina e tra l'altro è anche interessante che poi sia l'Italia che adesso va a sostituire la Francia in Niger per esempio che è il luogo dove c'è la più grossa base americana dell'Africa e il Niger proprio recentemente un paio di settimane fa ha chiesto ai militari americani di andarsene proprio è chiaro che mandare via dei soldati significa ovviamente incominciare a fare delle schermaglie e poi magari addirittura una guerra e la Meloni ha accettato di inserirsi diciamo in questo gioco e l'Occidente purtroppo è questo è il controllo delle risorse del mondo perché noi siamo ricchi appunto e ne abbiamo bisogno quindi è una brutta definizione se uno va a vedere da questo punto di vista ci si accorge che eccolo qua quello che appunto io in un certo senso chiamo il marcio poi ovviamente non è una parola mia è una citazione colta dall'Amleto di Shakespeare quello c'era del marcio in Danimarca diceva Amleto questa non so se a voi va bene come definizione però sì sì secondo me c'è esatto è interessante poi sottolineare ne avevamo parlato anche con Franco Cardini che ha scritto questo libro che si chiama appunto L'Europa non è occidentale giustamente sottolineiamo ad esempio il fatto che per dire Kant all'epoca di Kant Kant non sarebbe mai sognato di definirsi occidentale è definito europeo perché l'Occidente era un'altra cosa certo questo nostro concetto di Occidente che tra l'altro tiene insieme significati diversi tiene insieme il significato culturale politico in parte anche geografico anche se poi appunto entra in contraddizione perché il Giappone sì però la Colombia no quindi però tiene insieme tante istante diverse e ad oggi sembra semplicemente poi di fatto coincidere con i confini degli interessi geopolitici americani cioè nel senso se sei amico americano sei nell'Occidente e se non lo sei non sei nell'Occidente ed è molto pericoloso perché poi sembra che ad essere in questione ad essere in dubbio ad essere attaccati siano i valori occidentali quando magari spesso invece semplicemente l'egemonia americana nel mondo che è un'egemonia che anche se forse bisognerebbe chiamarlo impero americano forse sarebbe più comodo anche perché poi per esempio molti non sanno per esempio abbiamo detto che l'Australia e la Nuova Zelanda sono nell'Occidente ma sono ancora peggio perché l'Australia e la Nuova Zelanda hanno come capo di stato il re d'Inghilterra cioè tuttora e questo anche la fa pensare lunga uno dice si preoccupa che alcuni stati vogliano appunto espandersi o fare appunto una sorta di impero ma di imperi ne esistono ancora la Francia ha colonie in tutti e cinque i continenti che piacciono uno va nel Mar dei Caraibi trova la Martilica la Guadalupa va in Oceania e c'è la Nuova Caledonia e così via in Africa la Reunion in Polinesia c'è il Tahiti ad esempio e le isole vicine e allora uno dice ma scusate giustamente uno ingenuamente può dire no Putin non deve invadere l'Ucraina perché l'Ucraina deve rimanere indipendente però quando una nazione ha delle colonie tuttora e forse sarebbe meglio che cominciasse a guardare la trave nei propri occhi anche gli Stati Uniti d'America hanno colonie non le chiamano così quindi uno non se ne accorge ma Puerto Rico per esempio è un territorio però non è uno Stato e le Hawaii sono uno Stato ma in realtà sono semplicemente occupate se uno è andato all'Hawai si accorge che gli havaiani a parte che sono quasi tutti scomparsi anche lì esattamente come in Australia o in Nuova Zelanda però questa è la realtà di fatti oppure dal punto di vista degli americani nel libro io ho messo delle mappe anche perché è interessante far vedere un po' con un colpo d'occhio quello che succede gli americani hanno 800 basi militari sparse nel mondo 800 e uno guarda quella mappa ma sembra veramente che ci siano stati gli uccelli che ci hanno lasciato i segni perché è una cosa così e poi si chiede magari se uno guardasse la mappa delle basi russe la cosa si riequilibra e invece Russia Francia e Inghilterra insieme hanno 30 basi nel mondo e gli americani 800 uno dice allora forse c'è qualche cosa di sproporzione però è molto i media ormai ci indirizzano il pensiero quando noi parliamo delle democrazie e Biden per esempio che poi è ormai arrivato alla fine della sua vita e quindi ogni tanto gli scappano di bocca le cose che forse non dovrebbe dire ma quando incontrò qualche settimana fa forse qualche mese fa due o tre mesi fa Xi Jinping il presidente cinese e qua alla fine gli chiesero durante la conferenza stampa a Biden e gli disse ma lei pensa sempre che Xi Jinping sia un dittatore e Biden disse molto chiaramente anche ingenuamente ma certo che è un dittatore è il capo di stato di una nazione che ha un sistema diverso dal nostro ma certo che se questa è la definizione di dittatore cioè i capi di stato di stati diversi dai nostri ok tutti gli altri sono dittatori noi invece siamo democratici mentre invece però usare le parole tipo democrazia che hanno significati anche diversi che vengono insieme alla parola e sono significati ovviamente positive usare per gli altri stati parole o democrature oppure autocrazie o addirittura dittature subito fa sì che uno pensi al bene da una parte al male dall'altra poi uno va a vedere probabilmente c'è meno libertà di quanto si creda nei sistemi democratici e forse ce n'è di più di quanto si creda non di più di quello che c'è in occidente ma di quanto si creda in sistemi che sono autocratici come la Russia per esempio come l'Iran anzi io credo che se uno va credo perché lo so nel senso che sono stato in Russia tantissime volte perché io avevo studiato lì anche negli anni 80 ma ci sono tornato a febbraio per esempio per una decina di giorni qualche anno fa ero andato in Iran e uno si accorge che in effetti la visione che noi abbiamo di questi paesi è una visione pesantamente influenzata dal racconto che ne viene fatto nei media in cui appunto si continuano a sottolineare con aggettivi di un certo genere con descrizioni di un certo genere cosa che poi spesso a occhio non appaia è vero che uno non può giudicare i paesi a occhio però molte cose sono eccessive come critiche sempre il discorso che facevamo già agli inizi tutto brutto dall'altra parte tutto è bello dalla nostra parte poi ci accorgiamo ad esempio il fatto che in Italia ci siano lo scorso anno ci siano stati se non sbaglio 68 suicidi in carcere e questo fa capire che la situazione delle carceri italiane forse solo i suicidi tra l'altro cioè non sia proprio rosea uno guarda anche il numero di carcerati per esempio si accorge che in Europa ci sono in Italia in particolare ci sono circa un carcerato ogni mille persone e in Italia ne abbiamo una 60 mila circa anche se i posti sono 48 mila e questo è uno dei motivi per cui poi alla fine è difficile vivere e mantenere l'ordine dentro le carceri però se uno guarda agli Stati Uniti si accorge che là invece c'è un cittadino ogni 150 in galera e allora dice ma non doveva essere the land of the free e poi ci accorgiamo invece che sette volte di più di quello che abbiamo in Europa gli Stati Uniti sono un regime carcerario però poi se uno va a vedere la composizione di questi carcerati si accorge che per ogni carcerato bianco ce ne sono tre latini americani cioè ispanici e ce ne sono sette neri e allora anche lì si comincia a capire che in carcere probabilmente ci sono questioni razziali i neri appunto stanno molto di più di quanto non ci siano i bianchi e così via poi soprattutto la cosa tremenda negli Stati Uniti è che il sistema carcerario è appaltato ai privati e quindi ovviamente quando diventa un business diventa anche lucrativo il fatto che ci siano molti carcerati perché ovviamente se su quelli si guadagna diventa un po' così io credo che dovremmo appunto ma anche per il nostro bene non soltanto per il malaltrui per essere putiniani così per il nostro bene cercare di capire che ci sono grossi problemi in occidente che dovremmo cercare di risolverli anche senti io vorrei visto che sei arrivato alla democrazia allora ti faccio un'altra domanda identica a quella di prima però cos'è la democrazia oggi perché ormai noi per democrazia abbiamo diciamo introiettato la democrazia liberale ma dovremmo iniziare a chiederci democrazia per chi perché l'unica libertà di cui siamo sicuri di godere è quella anzi sono sicuri di godere i capitali che hanno la libertà di acchiappare qualsiasi cosa però vediamo che più i capitali hanno la libertà più i capitali hanno il potere meno i popoli le classi lavoratrici hanno libertà e protagonismo politico quindi cosa è diventata la democrazia oggi e in particolare la democrazia occidentale definita anche democrazia liberale in virtù anche del fatto di cui parlavi prima che quello che non è una democrazia liberale è stigmatizzato come dittatura o autocrazia esatto posso aggiungere aggiungo brevemente a quello che diceva a quello che diceva Clara perché è una cosa che ti sottolinea nel tuo libro è che c'è paradossalmente è proprio il grande mito il grande mito su cui sono state edificate le società occidentane negli ultimi 30-40 anni cioè la possibilità di conciliare democrazia e capitalismo che sono di fatto inconciliabili il senso che capitalismo è un sistema intrinsecamente oligarchico che tende alla concentrazione della ricchezza e quelli del potere e la democrazia è intrinsecamente proprio in termini logici ma anche ormai anche empirici dobbiamo dire sono inconciliabili invece il grande mito del nostro tempo forse è proprio l'idea di poter conciliare questa roba qua e chi invece magari sa che queste due cose non sono conciliabili diventano autocrazie cioè è un po' un paradosso questo non solo è anche non soltanto il mito di conciliarle ma poi addirittura di pretendere di andarle a imporre agli altri con la forza tra l'altro questo interessante che dice tu devi essere democratico ti impongo di esserlo così e di imporre allo stesso tempo appunto l'altra faccia della medaglia perché si dice sempre appunto democrazia e capitalismo però il capitalismo può funzionare per una piccola parte della popolazione perché quando uno guadagna l'altro ci perde non è che ci siano i guadagni a somma zero quindi il tentativo di estendere il mercato in tutto il mondo è fallimentare in partenza però è ancora peggio di quello che avete suggerito voi con le vostre domande che si capiva qual è il vostro pensiero che la democrazia non è quel mazzetto di fiori che di solito viene presentato perché ci sono stati degli economisti filosofi dell'economia quasi si potrebbero dire benché matematici come pratica in particolare uno che si chiamava Kenneth Harrow che prese il premio Nobel per l'economia per questi studi quindi insomma è accettato anche diciamo così dalla comunità internazionale che analizzò il concetto di democrazia perché poi tutti parliamo di democrazia ognuno però parla delle cose sue un po' come quando Wittgenstein faceva quell'esempio e diceva abbiamo tutti una scatoletta qualcuno ha la scatola vuota qualcuno ha dentro un insettino qualcuno ha dentro una perla eccetera poi tutti però parliamo di questa roba e poiché nessuno vede le scatole degli altri usiamo la stessa parola ma per cose completamente diverse e la democrazia è proprio una cosa di questo genere questo signore Harrow fece una specie di analisi filosofica di dire ma cos'è la democrazia cioè quali sono le cose che noi istintivamente o intuitivamente associamo al concetto di democrazia ce ne sono alcune che sono ovvie in democrazia bisogna votare per esempio si dice altrimenti se non si vota non c'è democrazia è un'altra cosa i voti ovviamente devono essere tutti uguali perché certo che se si vota poi però il voto di uno conta di più di quello degli altri e magari conta solo quello allora diventa una dittatura eccetera o l'unanimità se tutti sono d'accordo su qualcosa quello bisogna fare appunto almeno nel caso in cui siamo tutti d'accordo eccetera e poi ho già detto il dittatore che non ci piace così e purtroppo praticamente queste 4-5 condizioni che ho appena accennato non possono stare insieme allora ho dimostrato questo teorema che quelle condizioni sono incompatibili fra loro bisogna scegliere fra qualcuna insieme non possono stare infatti il suo teorema spesso viene enunciato con quello che io poi ho scelto come titolo di un mio libro di qualche anno fa cioè la democrazia non esiste se questa è la definizione che noi abbiamo di democrazia minimale almeno queste cose devono esserci non è possibile metterli insieme e non è possibile perché si creano dei paradossi come il detto paradosso di Condorcet il fatto che ad esempio quando si fanno delle votazioni e bisogna scegliere fra più di 3 candidati il problema è che finché ce ne sono solo 2 di candidati o di politica la cosa è facile si vota maggioranza quella che prende il maggior numero di voti vince è finito lì il problema è da 3 in su come si fa all'epoca della rivoluzione francese perché queste sono cose che si studiavano quando si cominciava a capire che sarebbe cambiato l'invento diciamo così anche il sistema politico ci fu questo marchese che si chiamava Marchese di Condorcet che era un famoso matematico che scoprì questo paradosso strano cioè il fatto che dice ci sono 3 candidati e uno potrebbe dire poiché so come scegliere fra 2 allora uno sceglie fra 2 prima poi quello che vince lo faccio combattere col terzo e ho finito e lui si accorse che ci sono delle situazioni non sempre però possono succedere situazioni così in cui il primo vince il secondo il secondo vince sul terzo ma il terzo vincerebbe sul primo e solo che noi non facciamo mai tutte le votazioni facciamo le votazioni e eliminazione e la possibilità di tornare indietro non ce la diamo e queste cose sono successe anche in realtà nella pratica nella prassi successo dall'epoca di Carter più vicino a noi per quelli che ci seguono magari che non erano ancora nati all'epoca di Carter quando fu eletto Trump Trump vinse sulla Clinton vi ricordate e la Clinton aveva vinto su Sanders che era piuttosto a sinistra ancora adesso e probabilmente il senatore più a sinistra però i sondaggi dicevano che in realtà se invece di esserci stata la Clinton come candidata democratica ci fosse stato Sanders uno potrebbe dire ma la Clinton ha vinto su Sanders Trump ha vinto sulla Clinton ovviamente a maggior ragione avrebbe vinto su Sanders invece no dicevano che se ci fossero stati Sanders e Trump avrebbe vinto Sanders e questa è una di queste cose circolari che fa capire che quando ci sono situazioni di questo genere il vincitore è determinato non dai voti perché appunto la cosa è circolare ma dall'ordine in cui si fanno le votazioni e se quindi si fosse fatta prima la votazione tra Trump e Sanders e poi il vincitore con la Clinton avrebbe vinto la Clinton e viceversa chiunque può vincere dipende solo dall'ordine ora questo succede a volte così in maniera plateale ma nelle democrazie succede quasi sempre e infatti ci sono quelle che si chiamano le questioni di procedura a volte uno legge i giornali e dice ma questi discutono di queste robe prima si vota questa cosa poi si vota l'altra emendamenta ma cosa importa e importa perché loro lo sanno benissimo che l'ordine in cui si fanno le votazioni determina già a priori chi vincerà e allora quando si vedono cose di questo genere uno dice ah democrazia è una bella idea sarebbe una bella idea se ci fosse ma poi in realtà spesso non c'è e questo è solo uno dei tanti problemi a Marti Asena ad esempio che è un altro famoso economista pure lui premio Nobel lui lo prese premio Nobel perché a un certo punto analizzò ancora peggio il concetto di diritto e si accorse che e questo è un teorema ancora peggio di quello di Haro perché addirittura quell'altro poi discende come corollario si accorse che in una società al massimo una persona può avere dei diritti una e se ha qualche diritto ce l'ha tutti è un dittatore però i diritti sono incompatibili d'altra parte intuitivamente è la cosa abbastanza naturale perché se io ho diritto di fare una cosa oppure non farla e quell'altro pretende di avere lo stesso diritto beh ovviamente soltanto uno di noi può effettivamente esercitare quel diritto quindi ci accorgiamo che noi parliamo molto di metafisica in pratica tu citavi prima il pensiero occidentale queste belle idee la democrazia i diritti e tante altre cose la tua odiata metafisica la mia odiata metafisica ma non è odiata è semplicemente constatata come impossibile d'altra parte Kant in fondo aveva fatto questo poi aveva cercato di smantellare la metafisica nel caso suo poi addirittura nel concetto maggiore di metafisica cioè quello di divinità quello di Dio e anche qui noi crediamo tra l'altro visto che ho citato metafisica Kant eccetera noi crediamo che l'occidente sia appunto l'unico luogo in cui si fa filosofia ad esempio io l'ho sentito con le mie orecchie per esempio filosofi come sederino dire che ah ma no certo sì in India magari pensano non lo so ma certamente quella non è filosofia che poi rivela questo semplicemente un'ignoranza di quello che c'è all'estero poi non è che uno possa sapere tutto ovviamente quindi noi è ovvio che sappiamo certe cose sappiamo le nostre non sappiamo quell'altrui però l'idea di dire sì noi sappiamo solo le nostre ma le nostre sono le migliori e questo è proprio l'imperialismo che noi abbiamo sempre avuto nei confronti degli altri degli altri popoli in parte dovuto però è giustificato sul fatto che anche i greci la pensavano così i greci chiamavano barbari gli altri popoli li chiamavano perché così perché barbari è un barbarismo nel senso che è semplicemente li sentivano parlare dice questi cosa parlano sono degli ignoranti perché perché non parlano greco è un atteggiamento abbastanza strano e nell'ottocento dall'ottocento in avanti nacque questo ultimo classicismo diciamo in cui il nostro pensiero viene fondato sulla base del pensiero greco ci ho messo nel libro un capitolo su questo perché uno potrebbe pensare perché se la prende con classicismo quando parla di occidente perché quello è uno di nuovo dei pilastri su cui si regge la nostra idea che così come abbiamo l'unico sistema democratico che funziona ed è appunto la democrazia dobbiamo imporla a tutti così come abbiamo l'unico sistema economico che funziona ed è il mercato libero mercato e anche quello dobbiamo imporla a tutti abbiamo anche un unico pensiero che funziona è il pensiero occidentale e gli altri blatterano cose però non pensano e questo è razzismo puro naturalmente e infatti le due cose andavano insieme c'era bisogno di questo pensiero per giustificare il fatto che poi l'Europa invadesse il mondo intero una delle mappe che ho messo nel libro è stupefacente uno guarda l'Europa e guarda quali sono stati gli stati che le colonie che gli stati europei hanno avuto nel resto del mondo e si accorse che quasi tutto il mondo era colonizzato in particolare tutta l'America tutta l'Africa una buona parte dell'Oriente e così via tutta l'Oceania e allora uno dice certo che questo popolo europeo che poi si espande così in tutto il mondo che crede di essere l'unico di avere diritto di occupare le altre terre se ci sono altri li fa fuori e li distrugge non sono sicuro che sia poi un bene per l'umanità addirittura se uno vuole essere pessimista potrebbe dire i problemi del mondo in buona parte si risolverebbero se non ci fossimo noi a volerci accaparrare questa enorme quantità di ricchezza perché noi vogliamo vivere a livelli di consumo e di produzione che tra l'altro tendono all'infinito perché una delle idee fondamentali del capitalismo occidentale è che ci deve essere una crescita continua cioè l'idea che se tu eri contento lo scorso anno con quello che hai fatto e quello che hai avuto quest'anno non va più bene non puoi essere contento ma se ero contento l'altro anno e no sarebbe così uno dice l'altro anno avevo una moglie o un marito e dice quest'anno voglio due perché quella non mi va più bene e poi tre e così via ma è veramente l'idea della crescita continua è una cosa che già nel settecento si capiva che era foriera di guai Malthus ad esempio lo disse chiaramente se la popolazione cresce all'infinito e le risorse sono finite prima o poi si sbatte e Darwin per esempio l'evoluzione delle specie è nata anche lì c'è spazio in natura per un certo numero di una certa varietà di specie e alcune soccombono e altre invece si mantengono quindi è vero noi facciamo la nostra battaglia diciamo così per la sopravvivenza ma qui ormai noi non siamo più a livello della sopravvivenza siamo a livello del consumo eccessivo esagerato a danni e a spese di tutto il resto del mondo chiaro Clara hai un'ultima domanda se no la faccio io dimmi potete farla insieme in coro ah sì quello dobbiamo esercitarci un po' prepararci un po' una domanda stereofonica sicuramente avrei altre 500.000 eh infatti immaginavo facciamo 500.000 collegamenti ah volentieri per Giorgio a noi ci fa solo piacere e anzi facciamo l'occupazione delle televisioni invece che delle televisioni Pier Giorgio occupa Autolina TV questa può essere esatto un nuovo format visto che avevi citato Arrow e SN allora ehm andiamo quale domanda va bene ehm partiamo da dal concetto di eh libertà che si è affermato nel mondo moderno libertà come eh una libertà negativa ovvero rimozione degli ostacoli a poter fare dire quelle che si vuole vediamo che è una libertà del tutto mitologica perché questo non è possibile nella società però è possibile nei mercati a seconda di quelle che sono di quelli che sono i rapporti di forza però nel nel corso della storia del pensiero si è affermata anche una libertà positiva non come eh libertà di poter fare quello che vogliamo quindi eh quello che definiva von Hayek insomma l'intervento negativo dello Stato che si poneva come un paletto alla al campo di libertà personale ma eh una libertà come un level time field ovvero come pari opportunità ogni individuo deve essere messo sullo stesso sullo stesso piano deve avere le stesse opportunità in base a quella che è la propria diciamo classe sociale per poter realizzare se stesso raggiungere la insomma la massimizzazione del proprio interesse in qualche modo quindi questo tipo di concetto di libertà in questa fase della storia dell'occidente quanto è preso in considerazione all'interno del dibattito sia accademico che politico io credo molto poco beh in quello accademico può darsi appunto perché poi in accademia si parla e ognuno può dire quello che vuole naturalmente scrivere libri tanto non conta nulla quindi appunto dal punto di vista pratico però il nostro sistema va esattamente al contrario in parte come valore di facciata si dice appunto l'America per esempio si presenta come la terra delle opportunità in cui magari il figlio dello schiavo poi può diventare Presidente della Repubblica e così via sì sì è vero uno di quelli può farlo il problema è però legato con quello che dicevo prima con quello dei diritti perché spesso la propria libertà confligge con quell'altrui quando ovviamente ci sono due persone che vogliono fare la stessa cosa e la può fare solo una di quelle due e allora diventa più che altro appunto una lotta più che una una convivenza diciamo così pacifica io credo che non sia tanto nel DNA dell'Occidente il fatto di avere questa visione è più paradossalmente quasi una visione orientale in due sensi uno appunto nel senso tipo dell'India in cui effettivamente magari il concetto di consumo di produzione di bisogni eccetera è meno sottolineato al punto che noi poi consideriamo quei paesi che basano la propria esistenza su valori diversi dai nostri paesi arretrati perché non capiamo che magari possono esserci modelli di vita che sono diversi da quello che noi crediamo essere appunto l'unico se non consumiamo se non produciamo eccetera non va bene ma dall'altra parte anche da un punto di vista ideologico in fondo il socialismo il comunismo sono nati proprio perché c'è questa tensione di fondo fra l'individuo e la collettività cioè a volte il fatto di poter permettere a tutti di fare cose analoghe è legato col concetto appunto di collettività mentre invece il fatto di dire beh ognuno va per i fatti suoi vinca il più forte è legato col concetto di individuo ora qual è meglio come visione del mondo quella individuale o quella collettiva questo è un assioma è un problema che non si possono dimostrare gli assiomi sono punti di partenza sono punti di partenza contrapposti che tra l'altro risalgono se uno vuole addirittura secoli millenni fa il famoso problema degli universali per esempio che nel periodo della scolastica veniva dibattuto ci sono solo gli individui o ci sono anche le collezioni di individui gruppi di individui beh se uno parla a livello anche di di persone fisiche uno se lo può chiedere e dice ma esiste lo stato oppure esiste l'individuo se tu sei una formica per esempio o uno di questi insetti cosiddetti sociali daresti una risposta contraria a quella che diamo noi noi pensiamo che l'individuo sia la cosa fondamentale e poi certo ci sono gruppi di individui ma non esistono sono immaginari in un certo senso mentre invece nelle formiche è esattamente il contrario gli individui sono secondari e c'è proprio questo comportamento sociale che fa sì che gli individui si sacrificano per il cosiddetto bene diciamo del formicaio o dell'alveare e così via sono assiomi non si possono dimostrare e però sono modi contrari per esempio se uno guarda al nostro al nostro corpo anche quella è una collezione di cellule però per noi le cellule non importano lì non contano più gli individui conta l'oggetto intero però poi uno guarda le cellule pure quelle sono fatte di molecole eccetera dov'è che ci si ferma esistono veramente questi aggregati oppure no per esempio nel caso degli animali quando si parla degli animali uno dice beh le specie esistono perché se tu vuoi procreare per esempio e sei un uomo e vuoi procreare con un elefante è poco da fare cioè quello non riesce a farlo cioè c'è una barriera specifica occhio che però stai facendo metafisica Pier Giorgio no 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 è proprio questa la cosa interessante perché in teoria il problema degli universali era un problema metafisico se si vuole o linguistico in un certo senso era l'idea di chiedersi se o meglio era il progetto di chiedersi se le idee universali di Platone esistono veramente oppure se esistono soltanto le loro realizzazioni pratiche ma quello lì delle specie invece è diventato uno del non è l'unico ma uno dei pochi esempi in cui la metafisica diventa scienza in un certo senso e in cui uno scopre che effettivamente ci sono delle barriere che impediscono di dire che sono soltanto delle cose immaginarie le specie perché quando poi tu appunto cerchi di mescolarle quello non riesce a farlo ce ne sono anche in fisica per esempio di cose di questo genere sono rari ma sono gli esempi in cui la metafisica diventa scienza e quelli come me devono tacere in un certo senso non so se ho risposto alla tua domanda poi certo il problema della libertà è una cosa molto complicata e credo in parte molto occidentale appunto per tradizione diciamo così del nostro pensiero filosofico e in altre nazioni meno per esempio non è un caso ad esempio questo era interessante negli anni 70 noi non manifestavamo tanto per Israele e Palestina più che altro per la guerra in Vietnam e se uno guardava la mappa si accorgeva che in realtà c'era una divisione nell'Indocino da una parte c'era appunto il Vietnam e dall'altra parte per esempio c'era la Thailandia la Cambogia e uno diceva guarda qui questi da una parte sono capitalisti dall'altra parte sono comunisti poi se uno va a vedere però la storia lì si accorge che in realtà sono tutti buddisti però ci sono due tipi di buddismo il buddismo il cosiddetto piccolo veicolo che appunto cerca la salvezza in maniera individuale e il grande veicolo il Mahayana che invece la cerca in maniera sociale e la divisione passava esattamente lì cioè in fondo alla fine la politica diventa diventa anche legata con il background religioso e ci sono religioni individualiste come appunto il buddismo yinayana e religioni invece comuniste in un certo senso e non è un caso che poi alla fine appunto i paesi che hanno quella tradizione vanno più volentieri o più facilmente verso il comunismo e altri invece vanno più facilmente verso il capitalismo quindi anche queste idee di libertà che possono sembrare astratte poi alla fine si concretizzano nella vita poi politica economica anche anche il concetto ho detto economica ma per esempio se uno va appunto in Oriente si accorge che c'è un'idea di capitalismo buddista e che sarebbe come dire capitalismo cristiano però il capitalismo è molto cristiano se uno pensa all'idea del calvinismo ad esempio che si dice sia stato uno appunto dei fondamenti del capitalismo e anche lì c'è una motivazione religiosa e ovviamente Gesù Cristo e Buddha sono cose abbastanza diverse ed io ho provato a leggere questi libri che cercano di spiegare il capitalismo buddista e certo immettere diciamo così la propensione verso gli altri l'apertura è un po' quasi una contraddizione perché il capitalismo è un po' il contrario non sembrerebbe essere una cosa individuale e questo però fa vedere che spesso appunto il pensiero astratto poi si collega con le cose concrete diventa diventa prassi come avrebbe detto Marx un paio di secoli fa certo io allora concluderei con una con una battuta provando a fare un po' l'avvocato del diavolo nel senso uno legge in genere è il mio compito no no è ora ho il monopolio me lo prendo anch'io ora me lo prendo anch'io diciamo che uno legge tutto il tuo libro e come tra l'altro io ho fatto e uno dice va bene Pier Giorgio hai ragione l'occidente è anche l'impero di doppi standard è pieno di ipocrisia è pieno di contraddizioni però in fondo diciamo noi facciamo parte tra virgolette di questo impero e quindi noi facciamo parte dell'un per cento di non di sfruttati ma di sfruttatori non di colonizzati ma di colonizzatori se non fosse così ci sarebbe qualcun altro che farebbe la stessa cosa perché è una logica purtroppo verso un po' mana ecco e questo è un altro è un altro argomento diciamo basato un po' su una certa idea della realpolitik che si sente che secondo me è un argomento tra virgolette più intelligente rispetto ai primi due da cui siamo partiti e però non so se sei d'accordo ma la cosa su cui è importante sottolineare oggi è che in verità questo sistema qua non fa più nemmeno il nostro interesse cioè non è una questione semplicemente moralistica è una questione astratta di dire anche l'occidente ha le sue contraddizioni e sta sfruttando ma nel senso noi anche come comunità nazionale quindi pensando diciamo all'interesse nazionale che deve essere un po' quello che guida ovviamente la politica nazionale non ci conviene più non ci interessa più cioè noi siamo in uno spaventoso lucrino in una spaventosa appunto catastrofe sociale la socialdemocrazia è sotto attacco ci stanno forse rimandando in guerra per cui cioè io sottolinei anche spesso questo aspetto qua nel senso no questo è un discorso moralistico è un discorso nel senso che a noi non ci conviene più e quindi criticare criticare l'impero americano è proprio un discorso ormai di sopravvivenza ma sì lo è in tanti in tanti aspetti perché uno è quello ovvio del clima cioè che il nostro modello di consumo e di produzione va contro quelli che sono non tanto il bene del pianeta perché questo è un modo un po' ingenuo di dirlo perché in realtà quando si parla di temperature e si dice la temperatura media del pianeta sta salendo e stiamo uccidendo il pianeta e la terra non si sa che per esempio negli ultimi 500 milioni di anni quindi una cosa difficile anche da immaginare che è stato il periodo di esplosione della vita dopo il cambriano in cui la vita che prima era semplice dal punto di vista appunto strutturale poi è diventata questa enorme varietà di specie che ci sono oggi o perlomeno quelle che sono rimaste per due terzi di quei 500 milioni di anni la temperatura del pianeta era così alta così elevata che non c'erano ghiacci da nessuna parte nemmeno i poli e ciò nonostante la vita esplosa quindi pensare che l'alzarsi della temperatura possa essere qualcosa che dà fastidio al pianeta è una visione ingenua del pianeta cioè in realtà pianeta e la vita vanno avanti per fatti loro siamo noi che veniamo messi in dubbio perché certo in quelle condizioni sarebbe per noi più difficile vivere e anzi forse impossibile sopravvivere a seconda ovviamente di quale fosse la temperatura quindi noi siamo arrivati a un punto in cui praticamente ci stiamo suicidando poi anche lì il doppio standard dice salviamo il pianeta no stiamo egoisticamente cercando di salvare noi stessi se vogliamo sopravvivere quindi questo è il primo problema ovviamente che il nostro modello confligge col clima confligge anche con un problema che oggi in Europa è diventato fondamentale cioè quello dell'immigrazione e noi non capiamo che immigrazione è come le leggi dei gas il caldo e il freddo non è che uno li può tenere separati questi si mescolano e sappiamo benissimo che quando la casa è calda e tu apri le finestre il freddo arriva e la temperatura si abbassa se noi volessimo evitare veramente le immigrazioni quello che dovremmo fare sarebbe evitare le cause che le provocano o le producono cioè cercare di alzare l'innalzare il tenore di vita del terzo mondo e quindi immettendo fiumi di denaro probabilmente per esempio dico così una cifra a caso perché bisognerebbe fare i calcoli di quello che effettivamente funziona ma noi consumiamo nove volte di più degli altri proprio perché siamo 10% che consuma 90% se noi dicessimo per esempio senza esagerare di arrivare a dire adesso consumiamo anche noi soltanto il 10% e quindi abbassiamo radicalmente il nostro tenore di vita ma magari per esempio dimezzandolo e buttando metà della nostra ricchezza nei paesi del terzo mondo il problema dell'immigrazione probabilmente si risolverebbe così non verrebbero più qui perché starebbero bene a casa loro cioè una cosa abbastanza semplice pensare invece di fare i muri proprio come tra l'altro ho sentito anni fa una serie di lezioni di Barbero che raccontava le invasioni barbariche e la cosa incredibile è che sembrava di sentire i giorni nostri le invasioni barbariche si cercano di contrastare primo con delle leggi dice è proibito ai barbari di venire ok grazie poi dopo cercando di fare muri per l'appunto militari anche addirittura e così via e poi sappiamo tutti com'è finita sono arrivati e ci hanno cancellati e anche qui alla fine facciamo il nostro male se non risolviamo i problemi altrui che alla fine si risolveranno probabilmente in maniera violenta con immigrazione di massa e probabilmente con guerre anche perché poi le guerre che si stanno facendo oggi sono in parte dovute proprio a quello ho trovato interessante in questi giorni che sia il segretario di stato Blinken che è andato in Cina proprio in questi giorni a dire ai cinesi come devono comportarsi di mercato perché a loro non piace dove vendono e a chi vendono e qualche tempo fa Draghi hanno detto esattamente la stessa cosa cioè l'idea è che l'Europa finora è vissuta facendosi difendere militarmente dagli americani prendendo l'energia praticamente dai russi e vendendo i propri prodotti ai cinesi e beh ma questo è qualche cosa che può fare soltanto una parte della popolazione mondiale cioè noi siamo di nuovo al centro e pretendiamo di usare e sfruttare le risorse del pianeta nella maniera che fa più comodo a noi e non siamo esseri sociali in altre parole infatti siamo degli individualisti e anche dal punto di vista del sistema economico e politico e dovremmo cambiare e tu dicevi non sono sicuro che questo sia vero che dici se non ci fossimo noi ci sarebbe qualcun altro non vi ho detto perché gli altri prima di tutto storicamente siamo stati noi i colonialisti certo ogni stato ha si ha avuto guerre nei suoi dintorni ai suoi confini ci sono stati anche imperi grandi uno dice guarda la Russia sì ma appunto la Russia è enorme ma è diventata così perché era parte appunto e militare che c'era che c'era nell'ottocento siamo noi addirittura io ho accennato soltanto nel libro per evitare poi le bacchettate dei miei amici biologi che forse c'è anche una motivazione genetica nel fatto per esempio che i bianchi sono diversi dai neri del Centrafrica perché perché i bianchi sono il risultato del fatto che in Centrafrica dove gli uomini l'uomo sapiens è nato e dove ancora oggi ci sono alcune sacche diciamo così di di popolazioni che derivano direttamente da da quell'epoca che poi non è tanto sono duecentomila anni circa a confronto dei milioni di anni e cosa è successo c'è gente che era più intraprendente che era più attiva che è partita se n'è andata dall'Africa è venuta in Europa a più ondate e che cosa ha fatto ha invaso l'Europa all'epoca non c'erano gli uomini sono arrivati i primi però sono arrivati i Neandertal poi altri ancora più intraprendenti sono arrivati cosa hanno fatto con i Neandertal sono scomparsi pure quelli oggi noi tra l'altro paradossalmente abbiamo parti del DNA dei Neandertal perché evidentemente erano più razze che specie non potevamo in qualche modo interfecondarci e i popoli del Centro Africa invece non ce l'hanno cioè sono i veri antenati diciamo così dell'umanità e quelli sono rimasti lì le caratteristiche che noi diamo positivamente all'uomo sono quelle che ha l'uomo occidentale è intelligente è aggressivo si muove è intraprendente ma queste sono le nostre caratteristiche che noi giudichiamo buone ma ci sono popoli che invece sono l'esatto contrario e noi diciamo ah ma sono fanulloni pensano che forse non si deve vivere come noi e quindi non è detto che se non ci fossero gli occidentali poi ci sarebbe qualcuno che prenderebbe il loro posto che conquisterebbe l'intero mondo può anche darci che ciascuno se ne starebbe a casa sua e allora paradossalmente si potrebbe forse pensare che può anche essere un bene che magari non dico che gli occidentali scompagnino perché questa sarebbe una tragedia un po' eccessiva peggia delle guerre mondiali ma che comunque magari siano rimessi un po' al loro posto e quindi questa è l'idea poi alla fine del libro di dire va non siamo poi mica sicuri che esserci faccia bene a tutti gli altri certo certo Giorgio grazie mille per questa conversazione ovviamente sono tantissimi spunti diversi scusate la tua gorrea che è una no 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 anzi ci ha fatto a voi tagliate quello che volete ci fa assolutamente piacere no 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 assolutamente e comunque appunto se poi vogliamo organizzare altre altre puntate sono tanti temi di dibattito facciamo una maratona 500.000 abbiamo detto una maratona di domande sì sì volentieri parliamo di tutto lo scivile umano esatto facciamo i tuttologi facciamo i tuttologi esatto ok perfetto grazie mille a tutti e a presto ciao buona giornata a tutti grazie a voi buona giornata ciao